Questa notizia dell'archiviazione mi ha, diciamo, profondamente dato speranza proprio perché mi permetto così di riprendere in parte in mano la mia vita, da dove si era fermata. Buttato fuori di casa perché omosessuale, questa è la storia di Giacomo, trentenne valdarnese, che era stato addirittura denunciato dalla madre per maltrattamenti. Ora le accuse a suo carico sono state archiviate. Tutto nasce nel 2021 quando Giacomo decide di rivelare la sua omosessualità. In un incontro con la madre e lo zio, loro si sono sempre opposti a questa versione, il ragazzo racconta di essere stato aggredito con un estintore e cacciato di casa. La madre lo denuncia addirittura per maltrattamenti e lesioni aggravate, ma il caso è stato archiviato. Adesso Giacomo aspetta che la giustizia faccia il suo corso per quanto da lui stesso formalizzato in una denuncia i maltrattamenti e le percosse subite perché gay. Giacomo è stata una vittoria non solo sotto il profilo processuale ma anche morale perché in questo momento sono decadute definitivamente tutte le accuse che pendevano a carico di Giacomo e ora quindi potrà riprendere in mano la sua vita. Quindi speriamo anche che ci siano risposte importanti anche sull'altro versante per quanto riguarda le vessazioni che lui ha subito dalla madre e dall'ozio. Vessazioni che peraltro, secondo il racconto del ragazzo, non si sarebbero fermate. Il 24 dicembre Giacomo torna a riprendere i suoi effetti personali ma nemmeno in quel momento c'è un'apertura da parte della madre. Ho notato le cose immobili della mia camera, tutti disfatti, smontati e pronti per essere gettati via come se si volesse chiudere in ogni modo un rapporto madre-figlio senza poter avere ripensamenti.